Siamo qui con Emanuele Reato nel post partita di Atletico Pambacecio, Sanz. Allora Emanuele, com'hai visto questa partita? La partita dominata in lungo e in largo, qualche errore difensivo, un paio di sbavature e due volte a parte loro, il loro portiere sugli scudi, purtroppo ho parato anche quanto non era parabile. Mi spiace perché avevamo ricominciato a vincere e ci tocca ricominciare un'altra volta il cammino. Rispetto alle scorse partite cosa vi è mancato di più oggi? Oggi direi soltanto un po' di fortuna perché comunque abbiamo giocato parecchio, la palla, loro sono ripartiti quindi abbiamo poco da rammaricarci. Due o tre errori a partita ci stanno, se poi ti castigano, calcio a questo. Ultima domanda, con questa sconfitta il treno delle prime si allontana, qual è il vostro obiettivo quindi a questo punto del campionato? Noi abbiamo una certa età, quindi ci sta bene essere lì a metà classifica, giochiamo per divertirci, va bene così, non c'è problema, che vincano i migliori e noi siamo tranquilli. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao a tutti.